Play Anche il tuo basso è caratteristico sopra questo Sì, sì, va bene E' scarso Tutte le chitarre che vanno proprio in levare Chitarre è l'utile Ci sono anche delle percussioni Sì, c'è un solo di Tony esposito Ah, questo è Tony? Arriva Da qualche parte ci darà Comunque è lui che si diverte qua Sì Si mischia alla tastiera tipo Still Drums di Ernesto Alle padelle vere Bellissimo Sì Campanelli Auma Auma è un basso praticamente ska Sì È che tocca, è che escapa, è che afferra e non vola salto Qui ci sono le chitarre in levare E sempre le percussioni di Tony esposito Sì 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 Sì